Carotto, innanzitutto complimenti, prima tripletta per l'Agropoli, qualcuno diceva in tribuna la prima di una lunga serie. Speriamo bene, ma sono contento per la squadra che siamo entrati bene e ci volevano questi tre punti per noi. Serve tanto a noi e alla città, serve tanto anche. Una curiosità, sul primo gol bellissimo, era un cross o era un tiro? In allenamento lo proviamo, diciamo un tiro cross, perché comunque questa palla deve essere forte sul secondo palo e per fortuna mi è uscito un bel gol e sono contento. Se dei tre dovresti scegliere, quale sceglieresti? Dei tre gol? Sì. Ah beh, il primo. Però sono tre gol che dimostrano l'etereogenità del tuo repertorio tecnico, perché sono tre gol diversi. Sì, sì, sono contento, però ripeto, questo campionato non c'è bisogno del singolo, perché il gruppo fa la differenza qui. E il mister, grazie anche allo staff tecnico, è uscito fuori un gran bel gruppo e sono contento per questo, senza dubbio. Tu hai fatto il capo canoniere a Viareggio e hai giocato in piazze, sicuramente molto più importante di questa. Giocare ad Agropoli lo consideri un posto in titolo o no? No, 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 no. Io mi sono, grazie al mister che mi ha chiamato, sono venuto qua per fare veramente bene. Ti ripeto, il gruppo mi ha preso veramente in simpatia, ci siamo messi subito insieme tutti quanti e ripeto, il gruppo fa la differenza. Non sto a parlare delle piazze, perché comunque ogni piazza ha il suo valore, secondo me. Un'ultima battuta, se dovresti scegliere tra la gara di oggi e la super gara che hai fatto ad Agrigento, quando sei entrato, quale sceglieresti? Bella domanda questa. Non lo so, le prendo tutte e due, non ne scelgo una. Tutte e due le piglio, dai. Però qualcuno ha detto, forse le pagine più belle di Canotto ancora le deve scrivere con questa squadra. Speriamo bene, speriamo che dobbiamo far ricredere tante persone, che comunque parecchie persone non ci credono più. Io spero che tutte le persone oggi e tutte le persone che non sono venute vengano allo stadio per dare una mano anche a questa squadra che hanno bisogno.